Musica Allora, in compagnia di Blanca Bricegno, su Liber TV ormai è una vedetta Blanca Bricegno che ci informa e ci dà notizie sul disperato popolo venezuelano Blanca, qui alla Marcia dei Popoli Oppressi, ti abbiamo già intervistato, abbiamo fatto anche uno spottino con te e volevo ribadire qualcosa Sì, grazie, grazie, sempre grazie a voi Liberi.tv Allora, voglio veramente dare un ringraziamento a Vente Venezuela che era presente loro in questo momento non appartengono tanto più alla MUD ma sono dentro ma sono fuori Comunque, essendo che Aires Vena ha sempre chiesto che la resistenza deve essere presente in tutti gli atti del Venezuela e in modo assiduo noi quando loro fanno delle attività siamo presenti io vorrei ringraziare ed aspettare che loro possano capire che non è facendo un mix con tutti quelli che sono stati in passato si possa fare una proposta di nuovo governo e va bene non siamo noi molto in sintonia con il modo in cui loro propongono l'uscita di questa situazione ma il ringraziamento per la loro presenza va fatto perché anche loro non solo sono venezuelani ma fanno una loro battaglia grazie grazie Blanca e appuntamento sugli schermi di Liberi.tv